Una proposta di legge che riporta indietro nei tempi, o almeno così sembra. Nell'era della tecnologia avanzata, vedere la terra come fonte di guadagno diventa la nuova impresa, annunciata dal Movimento 5 Stelle, che pensa addirittura di costituire una vera e propria banca, tutta abruzzese. Abbiamo pensato a tutti i terreni che in questo momento sono abbandonati, di proprietà e in capo agli enti pubblici o privati che siano, che non vengono più lavorati. Sarà una grande occasione per creare impresa e dare la possibilità a chi oggi la possibilità economica non ha, di poter acquisire questi terreni in cambio di un canone e non un'acquisizione attraverso una vendita dalla regione al privato. Un'altra occasione molto importante ci sembra quella legata alla possibilità del recupero di questi terreni, oggi abbandonati, quindi preda del dissesto idrogeologico. Lavorarli sarà sì un'occasione per recuperarli e quindi far sì, immaginiamo nel periodo estivo, che non siano preda per esempio degli incendi. Ottimizzare i terreni, evitare l'abbandono e il rischio idrogeologico e far fruttare spazi e mestieri, creando una vera spirale virtuosa, capace così di creare una nuova economia. Al momento siamo ancora in una fase preliminare, siamo in Commissione, però bisogna riconoscere che nella prima seduta di Commissione abbiamo ottenuto il parere favorevole da parte di tutti i gruppi politici presenti, sia di maggioranza che di opposizione. Questo ci fa ben sperare, sia in termini di tempo, vorrà dire che probabilmente i passaggi saranno molto veloci prima di arrivare in Consiglio, sia anche dal punto di vista dell'ostruzionismo che magari non arriverà, ci auguriamo, proprio perché può essere una possibilità di dare lavoro in una regione che in questo momento è in gravi difficoltà.